Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentrovati in un nuovo, nuovissimo video Allora, questo video è un po' ritorno, 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 ritorno all'origine In realtà è tardino, è tipo mezzanotte Però volevo fare questo video un po' perché mi è venuta la voglia di farlo Stavo disegnando e ho visto un po' di video SMR Ne avete fatto tanto, 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 un po' perché ho avuto un po' da fare Oppure preferivo guardare altro Un po' perché va anche a periodi, non so se ho visto anche un po' quello SMR che va a periodi A me ne si bevò a periodi E niente, ho visto la challenge di Chiara, se ti aggiorni ti parti E volevo riproporre anch'io un video del genere Però questo video si dividerà in due parti E avevo in mente di fare una cosa davvero, 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 davvero carina Ossia mi sono armata di un telefono E andremo a leggere insieme qualche frase, 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 frase motivazionali Le frasi motivazionali a me piacciono molto Soprattutto leggerle di prima mattina Durante una giornata Prima della giornata, ecco Oppure durante la giornata Quando la giornata sta andando malino Io di simpio certe volte Mi ascolto il discorso di Benigni L'inno alla vita Lo potete trovare tranquillamente su internet Ma sicuramente lo conoscete Anzi, se lo trovo per iscritto Semmai lo andremo a leggere insieme Oppure un altro video Ora vedo un po' Comunque Sì, dicevo Mi ascolto l'inno alla vita di Benigni E quando proprio sono giù di morale Cattivo umore Oppure mi assogesso una cosa molto, molto, molto brutta Spero Spero che l'idea vi piaccia E farò tutto il possibile per farti rilassare Lassare, 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 lassare Quindi in inaudible Inaudible Comunque è davvero strano Che una persona decide di fare un video a mezzanotte Però a mezzanotte si sveglia il mondo Davvero Davvero, 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 davvero strano Le coincidenze della vita, papà Comunque sono a Roma del telefono E ora andremo a vedere un po' qualcosina Allora, ho scritto frasi motivazionali Su quel telefono E ci sono vari cartelle In realtà Questi motivazionali Vita Cambiamento 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 Successo Successo Natural 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 Bell Immagrire A noi non ci interessa Aforismi Studio Obiettivo Lavoro Sport Palestra Calcio Fitness Instagram Autostima Non bollare mai Ce ne sono tante Noi andiamo a vedere Cambiamento Anzi Vita Andiamo a vedere Vita Allora La prima Che mi viene sotto occhio È La vita Per il 10% Cosa ti accade Per il 90% Come reagisce Allora Questa frase Secondo me È davvero 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 Molto 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 Vero Perché Io penso Che tutto Sia Oggettivo E siamo Noi A dare Significato Alle cose Se vogliamo Trovare Il lato Positivo Se vogliamo Trovare Il lato Negativo Delle cose Quindi È Vero Poi Don Scoraggiatevi Spesso L'ultima Chiape quella Che apre la serratura Allora Questa frase Per Praticamente Non ballare mai Perché Magari L'ultima L'ultimo tentativo L'ultima Opportunità Potrebbe essere Quello Decisivo Quindi Tenta 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 Fino Fino Che non ci riesci E È davvero Molto 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 Motivazionale Diciamo Io sono un po' così A me piace Spatterci Proprio la testa Perché Se sono sicura Di una cosa Che ce la posso fare Io la devo fare Assolutamente Oh Caldo Caldo Davvero Davvero Molto Molto Fatto Ma non ho Un elastico Ma presso Non mi vado A prendere Quindi C'è un tipo Silicano Che pelico La penna Come si Va Sì Per andare Oh Mi sono Sì Tentare Bene Come ho fatto Per Per Ok Cercherò Di Non muovere Molto La testa Perché Sennò Come si Fa tutto Però Da Almeno così Ho risolto Il Problem Perché Sto tipo Dentro Una Nella Cappa Praticamente Il mio salone È formato Di vari mobili E qua c'è un mobile Qua Nell'altro Poi sto Con le porte Chiuse Il mio Fatto Stare Lì Sta facendo Un casino A mezzanotte Perché Ovviamente Lui Il giorno Dorme E La notte Deve 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 Fare Le sue Cose Ovviamente È fisiologico Ok Loro L'ho trovata Una Per Arrivare All'alba L'uncia Alta Via Che La notte Ed Effettivamente È così Dal Buio Puoi Imparare A Risorgere Una Cosa Scontata Ma Vera Che Proprio Quando Tocchi Il Fondo Puoi Quando Tocchi Il Fondo In realtà Apprezzi La Luce Quindi Riesci Diciamo A risalire 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 Con Le tue Forze Questa È una Croce Molto Molto Bella Anche Se Scontata Poi Questa È Una Frase Ora Che Ho Trovato Questa Qui È Una Frase Che Mi Rappresenta 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 Un Casino Allora Te La Leggo Mi Disserò Che Non Potevo Per Questo L'ho Fatto Allora Quale Frase Può Rappresentarmi Meglio In realtà Tutta La mia Vita Si Basa Su Questa Cosa Vabbè Ovviamente No Però Molte Cose Che Ho Fatto Le Ho Fatte Per Dimostrare Che Avevo Ragione Oppure Perché Sono Molto Testarda E Per Questo Diciamo Ho Fatto Molte Cose Io Ad esempio Ho Raccontato La mia Passione Per Il Disegno Da Dove È Nata Io Non Sono Mai Nata Talettosa Non Ho Mai Avuto Interesse Per Il Disegno Ma Quando Per Caso Mi sono Iscritta Al Liceo Artistico Sono Capitata Al Liceo Artistico Io Avevo Diciamo L'abitudine Di avere Bei Voti Una Bella Media Tutti 7 7 8 9 E Quindi Ritrovarmi Con 6 Ad Arte A Disegno Proprio Non mi andava giù Proprio Non mi andava giù Avere Voti Bassissimi 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 Bassississimi Alla Pratica Quindi Mi sono Detta No Cavolo Come È possibile Che hai Un bel 9 A matematica Un bel 9 A storia E poi Un 6 A Disegno Dal vero Non può essere Devi rimboccarti Le maniche Per disegnare Da lì Mi sono rimboccata Le maniche E Imparato A Disegnare E Devo dire Che Questa Mia Fissa Per questa Cosa Mi ha portato Ad interessarmi Teressarmi 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 Sempre Per disegno Fino Che Appunto Non stanno Dove Sono O Troveremo Una strada O Ricostruiremo Una Allora In realtà È vero È molto 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 Vero Ed è anche Molto 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 Bella Perché Dà l'idea Di Determinazione Che Cavolo Se non è Quello Troverò Il modo Per arrivare A quella Cosa Che Voglio Quindi È davvero Molto Profondo Allora Qui c'è Una frase Bellissima Che Ve la devo Far Anche Vedere La Grafica È davvero Davvero Bella Oggi Oggi Amati un po' Di più Ci amati un po' Di più È una frase Bellissima E tutti Dovremmo Amparare Amarci Tutti Siamo Speciali 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 A modo Nostro Sarebbe Bellissimo Ricordare Più Spesso Più Spesso Più Spesso Questa Frase Poi Un'altra Frase Che Me Rappresenta Sempre Tre cose Nella Vita Insisti Resisti E conquista Determinazione Esatto Questa Un'altra Bellissima Che Mi Rappresenta Tantissimo Il Mio Segreto Anche Tutti Sesso Quando Nessuno L'ho Fatto Esatto Per un casino Come Tutte E Infatti Diciamo Lo scelte La Zona Dalla Sciaga Perché Prima La terminazione Il fatto Di Eclare Se Stessi E Bellissimo Perché Di Stesso Puoi Fare Davvero Puoi fare Davvero 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 Tante cose Cose Che Nevelo Tu Ti Immagini C'è Nel senso Se Puoi Pensarlo Puoi Farlo Secondo Me E Lo sto Dicendo Penso Positivo Penso Positivo Penso Positivo E Pensando Positivo A tre cose Positive Questo Da un po' L'incantesimo Una cosa Che Ci vedono In libri E cercano Di Farci O In Cantesimo Questa cosa Non funziona In realtà Secondo me Bisogna Proprio Avere Vede 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 In se Stessi E Quello Che Si ha Insomma Essere Grati 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 Ecco Secondo me Perché Quando Si tocca Il fondo È proprio Lì che Rinasci Rimergi Con una luce nuova Perché Quando tocchi 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 Il fondo Sei grato Cominci ad apprezzare Anche la Pog 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 Luce Allora Ora Invece 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 Arriba La Seconda Seconda Parte Del video Dove Cerco Il Discorso Di Benigni Per Iscritto Perché È davvero Troppo Bello E Racerò In La Di Pog Per Lassare Per L'ultima Parte Del video Ok Allora Qui Il Discorso È bellissimo Davvero Ok Preparatevi Perché Questo È bellissimo Amiamo Sempre Troppo Poco E Troppo Tardi La Felicità Cercatela Tutti I giorni Continuamente Chiunque Mi Ascolta Ora Si Mette A Cerca Della Felicità Ora In Questo Momento Stesso Perché Ce L'avete Ce L'abbiamo Perché L'ha notata A tutti Noi Ce L'ha notata Intorno Quando Eravamo Piccoli 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 Ce L'hanno Ce L'hanno Dato Il Regalo In Dote Ed Era Un Regalo Così Bello Che L'abbiamo Nascosto Come Fanno I Cani Con L'osso E Molti Che L'hanno Che L'hanno Che L'hanno L'hanno Ci dobbiamo Mai 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 Dimenticare Di Lei Non Bisogna Mai Avere Paura Di Marire Ma Di Non Cominciare Mai A Vivere Davvero Questa Bellissima Non Bisogna Mai Avere Paura Di Morire Ma Di Incominciare Mai Non Che Vero Davvero Vero Incominciare Mai Non Vero Davvero 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 Trovo Davvero Che Sia Una Bella Bellissima È Doper Bella Io Ti Guarda Che La Santo Mi Emoziono E Oppure Quando Stavo Lì Me L'ascoltavo Sempre In realtà Poi Lui Aveva Una Facita Per Convolgente Mi Pace Un Casino Pinocchio Come Personaggio Lo Seguo Quando Ho Fatto All'epoca Pinocchio 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 Ve lo Ricordate Pinocchio Con Pinocchio Bellissimo Io Lo Vedevo Sempre Quando Ero Piccola Mi Ricordo Che Aveva Il GT E A Mi Pace Va Un Casino Quel Film Anzi Se Riesco A Trovarlo Me Lo Ripeto Subito Perché È Da Tantissimo Tempo Che Non Lo Vido Lo Vorrei Rivedere E Quel Film È Uno Dei Film Più Importanti Delle Delle Mie Pace Allora Ragazzi Ragazzi Spero Che Il Video Vi Sia Piaciuto Noi Ci Rivediamo Nel prossimo Video Fatemi Sapere Se Vi Piaciuto E Se Piaci Adormentati Ciao 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 Buon 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 Buon